In un mondo segnato non dirado da lacerazioni e contrapposizioni, è importante ricercare vie di dialogo, di confronto rispettoso. A pochi mesi dalla nomina segretario di Stato, Monsignor Pietro Parolin ha rilasciato un'intervista al Centro Televisivo Vaticano per una riflessione sulla sua missione e sul ruolo giocato dalla diplomazia vaticana nel contesto internazionale. Mi rendo conto che si tratta di un servizio, di un servizio molto impegnativo, di un servizio molto esigente e pieno di responsabilità, ma vorrei sottolineare soprattutto che si tratta di un servizio molto appassionante in questa nuova stagione della Chiesa inaugurata dal pontificato di Papa Francesco. Direi che la priorità è la trasformazione missionaria della Chiesa, una Chiesa in uscita, come dice lui, una Chiesa in stato permanente di missione. Parlando di diplomazia, Papa Francesco utilizza i termini etica della solidarietà e utopia del bene. Qual è un suo commento? Il Papa si costituisce in questo caso come la coscienza morale un po' dell'umanità. E io credo che anche a livello di diplomazia, e qui vorrei sottolineare, a volte si vedono, si vede come questi appelli magari del Papa sembrano non trovare una risposta immediata, però voglio dire che c'è anche un grande desiderio di bene, che c'è anche un grande sforzo veramente per costruire la pace presente anche nel mondo. La diplomazia dovrebbe unire le persone, non solo i popoli. Quali sono a suo avviso i principi fondamentali di quella che potremmo definire una diplomazia umana? La diplomazia deve essere umana, quindi deve, credo, avere al suo centro la persona umana. Ecco, il primo principio mi pare questo. E vorrei dire che il Papa Francesco ci spinge a considerare questa centralità della persona umana non in maniera astratta, l'uomo come tale, ma ogni singolo uomo, ogni singola persona deve essere al centro della nostra azione, soprattutto le persone dei poveri, le persone degli emarginati, le persone dei deboli, le persone più vulnerabili, le persone che non hanno voce. Io direi che i principi, ecco, la centralità della persona devono essere proprio lo sforzo di fare della diplomazia una, diciamo, una strada per l'incontro. Anche qui il Papa sottolinea molto la dimensione della cultura dell'incontro, quindi l'uscire dall'isolamento e incontrarsi, perché solamente incontrandosi ci si può capire, ecco, ci si può accettare e si può collaborare. Una seconda, secondo aspetto, mi pare l'incontro, la solidarietà, ecco, e il prendersi a cuore, in terzo aspetto, il prendersi a cuore le situazioni degli altri, no, contro questa cultura dell'indifferenza che egli continua a denunciare. Prendersi a cuore ancora una volta delle singole persone, delle loro situazioni di sofferenza. In fin dei conti potremmo dire che il principio di una diplomazia umana è l'amore, e l'attenzione alla persona è l'amore per ciascun essere umano che viene in questo mondo. In un contesto internazionale, quale apporto specifico può fornire la diplomazia vaticana? Può aiutare ad allargare gli orizzonti del dialogo e della mutua comprensione? Sì, certamente, io credo che questo è il nostro compito, questo è sempre stato il compito della diplomazia vaticana, no? E in questo momento in cui ci sono così tanti conflitti, in cui il mondo vive tante lacerazioni, tante contrapposizioni, io credo che siamo chiamati più che mai a promuovere e a consolidare questo incontro, questo dialogo e questo rispetto gli uni degli altri. Io credo che una sfida, una delle sfide principali del mondo di oggi, quando le diversità si sono ravvicinate, si sono incontrate e possono dare origine a degli scontri, a dei conflitti, ecco, la grande sfida anche della diplomazia ecclesiastica, come di tutte le diplomazie, è far sì che queste differenze e queste diversità, che possono essere politiche, culturali, religiose, eccetera, non diventino motivo di contrapposizione e di lotta, ma di arricchimento reciproco, ecco, trovare la strada proprio perché possiamo arricchirci con le nostre diversità e questo mi pare che è il compito della diplomazia in genere, della diplomazia vaticana in particolare.